buon pomeriggio ragazzi tanto aspetto che vi connettete faccio una cosa molto brutta e scortese che è quella di mettermi la crema sul viso perché stavattina non ho fatto tempo a mettermela aspettiamo qualcuno di voi si connetta tanto francesco monaco ciao ciao dodolini dario ciao metto la crema vero che chi si allena tanto probabilmente ha lo stesso problema ecco il problema qual è il problema è quello che facendo tante docce ogni giorno la pelle si screpola si secca e niente perdi i pezzi quindi ogni giorno mettevi mettere un po di crema almeno io la devo mettere uso sta qua che aloe 40 per cento 98 per cento di origine naturale ecco questa vediamo un po chi si è connesso dodo ninni francesca monaco dario ciao nati zola massimo max luca ciao francesco leonardo squilla cim ciao kung fu quantu ciao ragazzi allora tanto giusto cinque minuti poi iniziamo a raffica parlare oggi affrontare i temi che mi avete chiesto di affrontare nelle domande di ieri quali temi abbiamo da affrontare abbiamo parecchi se avete se avete qualche altra domanda fatemela qui nei commenti o fatemela o fatemela nel modulo apposta per le domande ciao da da palermo mi dice marco leone ciao da pavia marco che si dice a palermo come la giornata oggi oggi quasi muore dal caldo ci saranno 35 gradi e io sono qua lo stesso con voi a fare la diretta invece di essere fuori a fare il bagno in piscina prendere il sole quando invece tutti sono in piscina parte che a me non piace andare nelle piscine quindi siamo a posto mi fa piacere stare in diretta con voi ciao kevin ciao manuel sol africa dai partiamo a raffica subito chi se ne frega aspettiamo che gli altri si connettono questa è una domanda personale io non amo le domande personali ragazzi perché il mio è il mio è un sito è una pagina è un sito rivolto alla divulgazione della nostra disciplina quindi se avete delle domande personali se mi fate delle domande personali diciamo che passano oltre se poi nessuno mi fa domande risponde anche a questa però passano oltre piuttosto fatemela nei direct allora quanto peso peso 60 kg 60 kg quando non devo combattere quando devo combattere vado dai 57 kg fino ai 60 arrivo anche a combattere a 60 kg ma non è il mio peso migliore in inghilterra ho tirato a 60 kg non è il mio peso preferito ecco 57 sarebbe l'ideale 57 58 i mesi migliori li ho fatti a 58 kg per ring war dovevo essere 58 la peso ho sbagliato sono arrivato a 56 kg assurdo guardate ripeto se avete delle domande personali fatemele nei direct non fatemele nei commenti perché comunque a me piace divulgare quello quello che è questo mondo non parlare di me ecco mi piace anche parlare di me ma non non è questo luogo allora lover de sergio ciao sergio ciao manuel caio giovanni ciao giovanni ciao matteo come architets ciao fili 9 3 9 3 3 9 ciao ciao a tutti ragazzi matteo ci vediamo stasera yes grazie per i cuori ragazzi pensi che la box della muay thai sia più sporca rispetto a quella classica avete visto siamo partiti subito a rattica poi saluto gli altri gli altri poca volta grande matteo no secondo me non è sporca è un tipo di box diversa si hanno dei lavori diversi cioè la box è fondamentale per quanto riguarda la muay thai ma io non la definirei neanche box quella che si fa nella muay thai il lavoro di mani il lavoro di pugni che non è completamente diversa dalla box classica però comunque non è la stessa cosa ci sono due cose diverse ci sono delle regole diverse ci sono si possono portare dei colpi diversi quindi potendo portare anche colpi diversi questa deve cambiare ok si deve adattare a quella che è la disciplina della muay thai poi per quanto riguarda la storia della muay thai la box inglese ha influito tantissimo sul sul diciamo sulla muay thai anche perché se non fosse stata per la box inglese al giorno d'oggi non avremmo la muay thai sportiva la muay thai che conosciamo perché cos'era successo negli anni venti gli inglesi diciamo che hanno portato la box in thailandia e i thailandesi hanno visto questa cosa hanno iniziato a vedere la muay thai con un aspetto sportivo e non più come una disciplina come una disciplina diversa ecco capite quindi si e non è secondo me non è più sporca è diversa è diversa punto anche perché ricordiamoci lo dicevo poco fa la la box è fondamentale per per la muay thai cioè il lavoro di mani è fondamentale ecco niente vediamo di proseguire con le domande tanto vediamo chi si è connesso poi comunque se volete approfondirò il discorso più avanti per quanto riguarda anche la storia di questa disciplina facciamo una diretta una diretta di questi giorni lo teniamo come tema e approfondisco questo tema per quanto riguarda la muay thai sportiva angel martinez ciao mattia convertino carla prato ciao carla come stai thomas pino ciao mike 2005 ciao mike tia toma bella matti ci vediamo al camp tra qualche giorno sim gregorian eleonora roberto 1 ale ciao flavio marco sonia eleonora roberto una salutata luciano boxo razza nicolosi allora ve lo ripeto anche oggi mi piace salutare tutti domanda di lorenzo lorenzo sterza il sonno influisce nell'allenamento punto di domanda per quanto mi riguarda sì il sonno anche non per quanto mi riguarda per quanto riguarda tutti il sonno ha una grande influenza sull'allenamento se non sei riposato a dovere se non sei riposato a dovere la tua prestazione fisica la tua prestazione va a farsi fottere detto proprio in tailandese sicuramente è un callo delle prestazioni se non hai riposato a dovere ok addirittura io quando sono in fase agonistica quando sono in fase di preparazione di un match quindi mi devo preparare diciamo nel mese di preparazione più o meno ci metto due barra tre settimane per preparare un match che diciamo in quel mese lì ogni giorno dopo pranzo faccio un pisolino che va che dura una mezz'oretta non oltre alla mezz'ora perché se superi quando superi la mezz'ora di sonno entri in una fase di riposo che non è non è più non da più beneficio quello che poi è l'allenamento ok quindi sì secondo me il sonno influisce nell'allenamento un atleta dovrebbe dormire sicuramente di notte almeno sei ore l'ideale è dalle sei alle sette ore dalle sei alle otto ore ok se riuscisse a dormire sette ore e mezza otto ore è il top sotto le sei ore di sonno si va in privazione di sonno quindi sotto le sei ore di riposo si va in privazione del sonno quindi un atleta diciamo dovrebbe sempre cercare di restare sempre almeno sopra le sei ore di sonno non dovrebbe mai scendere sotto le sei ore di sonno ok quando in maniera costante quindi va beh se capita un giorno che ti alleni che dormi anche meno di sei ore può anche capitare che la sera dall'allenamento sei anche più carico ma a me capita a volte che a spot dormo poche ore e stranamente sono carico la sera ma è un caso se facessi ogni giorno così magari è capitato anche a voi che è capitato il giorno che avete dormito poco e dite cazzo la sera ho lavorato di brutto ero carico sì va bene è vero capita un giorno fallo per sei sette giorni di fila e voglio vedere se hai ancora l'energia giusta per allenarti capisci se lo fai se inizi a avere costanza nel dormire poco inevitabilmente dopo tre quattro giorni diciamo che la tua energia e le tue prestazioni caderanno avranno un calo guarda è matematica la cosa quindi per un atleta dovrebbe dormire lo ripeto ancora una volta mi piace ripetere i concetti un atleta dovrebbe dormire almeno sei ore di notte poi se è in fase di preparazione agonistica l'ideale sarebbe fare anche un riposino dopo pranzo mezz'ora mezz'ora non più di mezz'ora perché se no ripeto ancora vai in una fase che non è più di riposo ecco non fa bene alla prestazione fisica dormire riposare più di mezz'ora al pomeriggio perché entri in una fase del sonno troppo profonda proseguiamo salutiamo chi sei connesso ora se connesso full throttle fitness se riesco perché dovete sapere che mi escono i vostri nomi e la manina di fianco con scritto saluta quindi per questo io vi saluto e poi schiaccio il saluta solo che a volte non riesco a schiacciarlo ad esempio adesso quindi va bene fa niente ciao a chi si è connessa ciao anna ciao sanni battia ciao marchetto ciao edoardo licari ciao cecilia omar marco betto alemonti ciao ciao ragazzi carla mi aveva fatto una domanda non riesco a ribeccarla oh come gestisci l'ansia da prestazione prima dei match allora per quanto riguarda il discorso ansia ansia da prestazione e ansia prima di un match se ti va anna vai nelle storie e scrivimi la domanda nel modulo opposto così riesco a mettere il modulo sotto e lo vedono anche tutti così non devo ripetere a ogni momento il tema di quello che sto parlando di quello di cui sto parlando come gestisco l'ansia da prestazione? come dicevo due secondi fa andate sul mio sito mymoytai.it ho scritto una guida con una tecnica pratica di respirazione per gestire l'ansia prima di un match l'ansia e la paura prima di un match detto questo come gestire l'ansia prima di un match? allora non è un lavoro che fai prima di un match la gestione dell'ansia cioè non puoi arrivare prima del match non aver mai fatto di lavoro di gestione dell'ansia e pensare di riuscire a gestire l'ansia ok? quindi è una cosa che devi fare durante tutto il mese di preparazione durante tutta la preparazione che fai da adesso fino al match questo perché? perché se alleni il tuo corpo per arrivare pronto a un match mi devi spiegare perché non alleni anche la tua mente per arrivare pronta al match ok? per gestire l'ansia per gestire la tensione allora prima cosa che puoi fare per gestire l'ansia cosa più scontata da fare è quella di allenarti perché se non arrivi pronto al match è ovvio che cioè se non hai fatto tutte le cose che devi fare tutta la preparazione che devi fare prima di combattere è normale ed ovvio che ti viene l'ansia prima di salire sul rink perché magari non sei l'avversario probabilmente l'avversario si è preparato più di te probabilmente l'avversario si è preparato, si è allenato e se tu non ti sei preparato è normale che ti venga l'ansia quindi la prima cosa da fare sicuramente è quella di arrivare pronto e preparare il match per quanto riguarda la gestione dell'ansia vera e propria cosa puoi fare? allora gli esercizi che puoi fare da ora fino al prossimo match che magari hai tra un mese un esercizio secondo me potente e che io faccio che a me piace fare è quello di prenderti 10 minuti 5 barra 10 minuti meglio 10 che 5 a fine di ogni allenamento quindi proprio alla fine di ogni allenamento ti prendi 10 minuti dove stai in silenzio senza musica senza niente chiudi gli occhi e pensi a quella che è quella che può essere la tua migliore prestazione quindi cosa vuol dire? la immagini chiudi gli occhi e immagini proprio quello che farai durante la prestazione quella che può essere la tua migliore prestazione ad esempio ti faccio un esempio stupido no non è stupido per niente però ti faccio un esempio io ho un background diciamo che ho una cassetta degli attrezzi ok? le mie capacità di atleta sono racchiusi in una cassetta degli attrezzi in questa cassetta ci sono diciamo 10 tecniche ci sono 10 tecniche che so fare devo scegliere i due attrezzi le due tecniche migliori che so fare meglio in assoluto ok? ecco ora che ho scelto queste due tecniche che so fare bene come diciamo come mangiassi sono quelle diciamo che sono le due tecniche che mi vengono meglio quando faccio sparring sono le due tecniche che faccio sempre quando faccio sparring sono le due tecniche che mi vengono senza neanche pensarci ecco mi concentro su queste due tecniche quindi alla fine di ogni allenamento chiudo gli occhi e me le immagino ok? immagino quello che faccio immagino i passaggi che compongono queste tecniche immagino i rumori che faccio e che sento nel momento in cui faccio queste tecniche immagino il contatto fisico con il mio avversario mentre faccio queste tecniche e nulla e questo può essere un ottimo esercizio è sicuramente un esercizio potentissimo per quanto riguarda diciamo la gestione dell'ansia la gestione dello stress a livello mentale prima di un match tu lo fai ogni giorno da qua fino al giorno del match durante nel giorno del match molti ad esempio ascoltano la musica si fanno i cavoli loro per trovare la concentrazione io quando è il giorno del match se mi avete visto in uno in palazzetti i miei compagni di allenamento lo sanno è facile che mi vedi con gli occhi chiusi a cercare concentrazione cercando la concentrazione che cosa faccio? faccio proprio questo esercizio faccio un ripasso mentale ok? e questo mi mi porta in due stati in due stati fondamentalmente il primo stato è quello del ripasso della concentrazione ok? perché ad esempio se pensi quando andavi a scuola che cosa facevi? Carlo comunque tutti voi che mi state ascoltando quando andavate a scuola prima di una verifica che cosa facevate? la mezz'ora l'ora prima di una verifica sicuramente eravate preparati i giorni prima di una verifica spero per voi ma nella mezz'ora precedente sicuramente eravate sul livello di passare ecco questo non è nient'altro che fare nient'altro che riprodurre la stessa cosa per quanto riguarda il combattimento io personalmente faccio così e la secondo stato in cui ti porta questo esercizio è quello di tenerti presente nel qui ora nel momento presente e stando nel momento presente cosa succede? succede che non pensi a quello che può succedere dopo non permetti all'ansia di entrare punto quindi e questo diciamo è una secondo me delle tecniche più potenti per gestire l'ansia prima di un match abbinato a questo si potrebbero fare anche degli esercizi di respirazione ripeto andate sul mio sito mymultai.it e ho scritto una guida con un esercizio pratico di respirazione da fare proprio per gestire l'ansia ecco quindi penso di aver risposto anche a questa domanda tanto proseguiamo un po' vediamo un po' chi si è connesso adesso quanti quanti ragazzi Eliseo Riviera ciao ciao Domenico Cambria ciao Johnny Rambo ciao Mohoffis oggi mi sono connesso in ritardo infatti penso che molti di voi siano già abbiano già ripreso a lavorare ma chi se ne frega la diretta è disponibile per 24 ore Maria Lepuri ciao Aval Ofic Leonardo Buttarazzi ciao Claudia ci vediamo stasera ciao Matt infatti vedete ci vediamo al camp vado Claudio Roberto Bu Rayola Raffaele Aaron 77 intanto proseguiamo tanto oggi ne ho di cose di cose da affrontare allora questa domanda qua l'ho già affrontata in altre dirette però mi fa sempre piacere trattarla qual è il mio fighter preferito di tutti i tempi il mio fighter preferito di tutti i tempi ragazzi ce ne sono parecchi ce ne sono parecchi in assoluto il mio preferito è somrack ok e comunque stando sul filone di somrack tutti gli atleti che escono dalla sua scuola che è la giochi gym ecco a me piace quello stile di combattimento quello stile tecnico quello stile flessibile elastico spettacolare quindi andate a vederlo se non sapete chi è somrack addirittura l'anno scorso ho realizzato un video su questo atleta pubblicato sulla mia pagina di facebook che è Muay Thai in Thailandia andate a cercarla la pagina lì troverete il video poi in seguito questo video lo pubblicherò anche sul canale di youtube il canale di youtube non so se lo state seguendo in questi giorni è molto attivo sto condividendo tutte le dirette sul canale di youtube quindi ogni giorno c'è un video nuovo se ancora non l'avete visto andate anche su youtube mi cercate Muay Thai in Thailandia seguitemi anche lì e anche lì vedremo di affrontare argomenti interessanti per quanto riguarda il mondo della Muay Thai Zoroso Massimiliano ciao benvenuti in diretta Cimasia ciao quindi ripeto il mio fighter preferito di tutti i tempi è Somrak comunque sì ragazzi devo entrare in diretta prima perché mi sa che molti di voi sono già andati sono già andati a lavorare allora ciao Johnny se avete qualche domanda ripeto fatemela pure che a me fa molto piacere al camp Mattia diceva ci vediamo al camp qual è il camp a cui si riferisce Mattia sabato e domenica prossima vado a via Reggio al camp del mio maestro Itty Paul e niente per chi ci sarà per chi sarà presente mi farà piacere mi fa molto piacere mi farà molto piacere vedersi di persona conoscersi di persona quindi non fatevi problemi se siete al camp a venire a salutarmi fare qualche foto per me è un piacere e niente mi fa sempre tanto piacere fare due chiacchiere con chi mi segue con i miei followers non so se avete visto prima il video che ho pubblicato con qualche scambio con qualche capo mi sta piacendo questa cosa di pubblicare ogni giorno diciamo qualche scambio qualche video con dei capo di Muay Thai c'è uno nel particolare che ho scritto che non riuscivo a capirlo non riuscivo a capirlo perché boh mi sembrava che l'atleta che è andato capo in realtà non è andato capo davvero ma secondo me boh abbiamo comprato il match può essere succedono queste cose purtroppo non mi ricordo che circuito sia forse il Max Muay Thai andate a vederlo nelle mie storie precedenti e niente ragazzi io direi che la nostra direttina l'abbiamo fatta anche per oggi sono stato connesso pochino ma chi se ne frega per oggi pomeriggio ho un bel po' di cose da fare e quindi e quindi niente abbiamo fatto una direttina breve abbiamo comunque parlato di argomenti interessanti perché abbiamo affrontato il tema del sonno quindi se è quanto importante dormire e quanto influisce il sonno sulla prestazione fisica sulla prestazione della Muay Thai e abbiamo affrontato anche il tema della dell'ansia della gestione dell'ansia e della gestione della paura per quanto riguarda sempre la Muay Thai e il combattimento ripeto questa diretta sarà disponibile qua sulla mia pagina di Instagram per 24 ore e poi la pubblicherò anche sul canale di Youtube e lì sarà disponibile per sempre grazie per i cuori non so chi me li sta facendo ma mi fa molto piacere continuate pure a farmeli e nulla quindi io direi che vi posso salutare abbiamo sempre fatto un 20 minuti una mezz'oretta di diretta e ci vediamo nella diretta di domani ragazzi e più tardi nelle storie di Instagram ciao a tutti